Per essere dimenticati bisogna identificarsi. È la contraddizione in termini che viene rinfacciata al motore di ricerca internet Google. L'azienda ha predisposto una pagina perché l'utente possa richiedere la cancellazione di link considerati inopportuni. Per farlo però bisogna fornire le proprie generalità. Secondo un membro del partito pirata, questo non è abbastanza. Perché se Google richiede i dati personali di qualcuno che voglia cancellare link imbarazzanti, questo non comporta l'automatica cancellazione anche da altri motori di ricerca. Quindi l'utente perderà moltissimo tempo nell'operazione. Inoltre, Google afferma che la cancellazione dipenderà comunque dalle autorità nazionali. Sono loro che avranno l'ultima parola. Google riconosce quindi il diritto all'oblio sancito recentemente dalla Corte di Giustizia europea che lo ha decretato. Questo verrà attuato solo in ottemperanza a decisioni del garante della privacy e di altre autorità. Non sarà garantito automaticamente dalla compilazione del modulo online.